Allenatore e rosa al completo, ascoltati ieri pomeriggio prima degli allenamenti dal presidente Gualtieri e dal patron Gianni Vrenna. Uno scambio di idee è servito a far chiarezza su quale dovrà essere il comportamento di tutti, a cominciare dalla prossima ed insidiosa trasferta di Sassuolo. Un confronto positivo che, come ha ribadito il presidente Gualtieri e i nostri microfoni, ha voluto far capire a tutti che nei confronti di Corini c'è la massima fiducia, che si andrà avanti con lui e che tutti sono invitati, al di là delle sue scelte giuste o sbagliate, ad accettarne le condizioni. Come così lo stesso Corini, che assumendose nelle responsabilità, ha già ammesso di dover cominciare a rivedere. Da rivedere alcune sue valutazioni tecniche per il bene della squadra e della nostra città, aggiungiamo noi, volendo far capire a tutti che la Serie B, per noi crotonesi, è un patrimonio da tutelare e da conservare a tutti i costi. Corini, allenatore debuttante proprio con la nostra squadra, sarà e saprà fare in modo di portare il crotone nelle zone tranquille della classifica ed in tutto ciò tutti noi dobbiamo dare il nostro contributo affinché questo avvenga. A Sassuolo, trasferta difficilissima, si potrebbe anche perdere, ma questo non dovrà significare volere a tutti i costi il suo esonero. Il campionato è ancora lungo e Secorini, come così affermato dalla dirigenza, sapendo di poter contare nell'apporto dei massimi responsabili, ha già fatto da persona intelligente, autocritica, al di là di come andrà a finire a Sassuolo, a tutte le condizioni per salvare il crotone. La S crotone perde in casa, ma possiamo considerarla una sconfitta in dolore che non pregiudica più di tanto la posizione di classifica che vuole la formazione di De Santis ancora impelagata nelle zone basse. Mister, un crotone dai due volti quest'oggi al Palamilone. Un primo tempo sicuramente non all'altezza della situazione, invece la squadra nel secondo tempo ha dimostrato carattere e aveva ribaltato la partita. Poi siete stati sfortunati e non siete riusciti a conquistare la vittoria. Sì, purtroppo oggi, come hai detto bene, una partita di due volti. Abbiamo iniziato a giocare negli ultimi dieci minuti del primo tempo a testa bassa con tutto l'organico. Insomma, tutti i ragazzi hanno disputato una grande partita. Non posso recriminare assolutamente nulla con loro perché ce l'hanno messa veramente tutti. Adesso il cammino si fa veramente difficile, però finché ci sarà una speranza noi ci crederemo fino alla fine, ce la giochiamo. Cercheremo di piazzarci al quinto posto e cercheremo di piazzarci almeno lì. Mister, un dubbio anche qui per noi. La palla del 4-3 loro, il Cimino si è fermato. Era realmente fuori oppure era rimasto in campo la palla? Guarda, per questo ti posso chiamare un testimone loro e ti può confermare. Io la palla l'ho vista nettamente fuori. L'arbitro aveva messo il fischietto alla bocca. Pazienza, non posso recriminare nulla. Gli arbitri possono sbagliare, sono come i calciatori. Purtroppo quest'anno sbagliano troppe volte a sfavore nostro. Questo errore purtroppo oggi ci ha penalizzato e ci ha penalizzato perché su questo errore abbiamo preso il quarto gol. Stavamo attaccando, stavamo rischiando di fare il quarto gol. Comunque complimenti veramente ai miei ragazzi perché ce l'hanno messa veramente tutte. Sono convinto che fino alla fine diranno la loro. Peseranno sicuramente le assenze di Rossano, di Cimino e Carlo Magno. Saranno due assenze pesanti, quindi difficilissima sarà anche la gara di sub. Però quest'anno siamo abituati a soffrire, ce la metteremo tutti. In bocca al lupo e grazie mister. Grazie a tutti.